Ad agosto l'inflazione scende a più 1,1% dal più 1,3% del mese precedente, secondo quanto rileva l'Istat. Nel comparto alimentare i costi dei prodotti lavorati tendono ad aumentare il loro ritmo di crescita su base annua, contribuendo all'accelerazione dei prezzi del carrello della spesa. Un sostegno all'inflazione si deve inoltre all'evoluzione dei costi dei servizi, che risente delle tensioni nel settore del trasporto aereo. Il lieve rallentamento del tasso di inflazione riflette in primo luogo l'ampliarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati e di quelli durevoli, ma anche la decelerazione dei costi dei servizi relativi all'abitazione. Nel mese di agosto l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi sale a più 2%. Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si accresce, portandosi a più 3,7 punti percentuali. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, accelerano su base tendenziale, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza di acquisto decelerano. La Commissione europea ha proposto lo stanziamento di oltre un miliardo di euro di sostegno finanziario dal Fondo di Solidarietà dell'UE per aiutare Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia ad affrontare gli impatti delle gravi inondazioni che hanno colpito questi paesi nel 2023. In particolare il pacchetto di aiuti prevede 378 milioni di euro per l'Italia a seguito dei danni causati dalle inondazioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regione toscana a seguito delle inondazioni di ottobre e novembre 2023. Inoltre 428 milioni di euro sono per la Slovenia e 5 milioni di euro per l'Austria per far fronte alle conseguenze delle inondazioni nell'agosto 2023. 101 milioni per la Grecia per sostenere gli sforzi di ripresa a seguito delle inondazioni nel settembre 2023. 46 milioni di euro per la Francia per i danni causati dalle inondazioni nella regione Haude-France nel novembre 2023. L'assistenza coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e recupero, tra cui la ripartizione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo svolgimento di operazioni di bonifica. Per l'Italia la somma stanziata è di 446 milioni di euro. La proposta di finanziamento segue le richieste di assistenza del SUE da parte dei paesi interessati. Una volta che la proposta della Commissione è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio, l'aiuto finanziario può essere erogato senza indugio e in un'unica rata a ciascuno dei paesi richiedenti. Il fatturato registrato dalla grande distribuzione organizzata in Italia nel mese di luglio vale 10 miliardi, un trend positivo del più 2,5% rispetto alla performance dello stesso mese nel 2023. È quanto rileva un'analisi di Nielsen IQ, da cui emerge un andamento positivo per la maggioranza dei canali distributivi. Questa tendenza è guidata dal settore specialisti casa e persona, seguiti da superstore, supermercati e discount. Trend in crescita anche per le vendite in promozione. Nel mese di luglio, tra le aree merceologiche che hanno registrato un importante incremento rispetto al 2023, si evidenziano i prodotti ortofrutta, seguiti da quelli per la cura della persona, elittico. In controtendenza, le bevande registrano solo un lieve incremento dello 0,8%. L'indice di inflazione nel largo consumo confezionato, ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall'industria, si attesta a più 0,1%.